ciao cari amici parenti colleghi allievi e flavio oggi vi presento alcuni semplici passi di body percussion per accompagnare il nostro himno di mameli fratelli in italia cominciamo con il piede destro in battere ok tre e quattro cosa ho fatto destro sinistro destro sinistro una marcia ho alzato la gamba destra e ho colpito con la mano destra sul ginocchio comunque sulla angoscia ok mano destra mano sinistra e piede giù insieme tre e quattro stessa cosa la faccio sinistra cominciando battendo sempre con la mano destra sul ginocchio 3 e 4 destro sinistro ok destro sinistro destro sinistro e chiudo con il destro in battere facciamo tutta questa prima parte conto tutti i pensieri 3 e 4 tarrata 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 tk tam 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 3 e pan tarrata tarrata tk tam 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 3 e pan tarrata tk y tante 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 23 frate sentito che il testo comincia in levare noi accompagniamo il battere quindi sull'uno con il piede destro 1 2 3 fratelli d'italia quindi 1 2 ok terzo movimento facciamo un levare sulla coscia destra e il battere sulla coscia sinistra 1 2 3 fratelli d'italia ok sul quarto movimento battiamo le mani gli anticipo già che quando l'intensità si abbasserà noi andremo a schioccare le dita anzi per battere le mani va bene da fare tutto 1 2 3 fratelli d'italia l'italia se ne sta l'italia 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 La chioma che schiava di Roma, di Dio d'Apeo. Destro, sinistro, destro, ora. Quindi sinistro, coscia a destra, coscia a sinistra, coscia a destra e batto le mani. Seguendo nota per nota, ok? Facciamo solo questa parte. 3, 4. Di nuovo, 3, 4. Va bene? Terza parte, fratelli d'Italia, è tutta molto marcata, tutta molto ritmica. Noi, con il nostro corpo andiamo a sottolineare tutte queste note, ok? Cominciamo con un saltino, piede destro, sinistro, appunto con un levare. 1, 2, 3 e... Sul terzo movimento facciamo la stessa figurazione ritmica che facciamo con le gambe. Quindi, ta-ta, in levare anche in questo caso, ma sul petto, ta-ta. Quindi, 1, 2, 3 e... Fratelli d'Italia, d'Italia, sedesta delle monti scipio. Va bene? Sul quarto movimento, battiamo le mani. E come abbiamo già fatto per la seconda parte, quando l'intensità si abbasserà, quando diminuirà, andremo a schioccare le dita. Va bene? Prima di fare tutto fino alla fine. 1, 2, 3 e... Fratelli d'Italia, d'Italia, sedesta, che l'elmo di scipio, se cinta la testa, dov'è? La vittoria, d'etore, gallacchione, schiava di Roma, chi Dio la creò? Pausa. Creò. 1, 2, 3 e... Fratelli d'Italia, d'Italia, chiamo... Di nuovo pausa. 3 e... Fratelli d'Italia, d'Italia, chiamo... Sì! Chiaro? Facciamola tutta insieme da capo, senza fermarci. Prima non fermarci. Va bene? Maestro. Sol maggiore. 1, 2, 3 e... 3 e... 3 e... 3 e... 3 e... 3 e... 2 e... 5 e... 1, 2, 3 e... 3 e... 4 e... La chioma che schiava di Roma, di Tio la creò? Paradam, taradam, 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 tantam, tantam Fratelli d'Italia, d'Italia seleste Del bel municipio, se cinta la testa La dittoria, le porga la chioma Che schiava di Roma, il Dio la creò Figgiamci a corpore, siamo pronti alla morte Siamo pronti alla morte l'Italia chiamò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte l'Italia chiamò, sì! Bene, vi lascio esercitare, se vi piace potete insegnarlo a vostri parenti, amici, colleghi, allievi, ad altre persone che si chiamano Flavio e che voi conoscete. Quindi buon divertimento e a presto, ciao! Grazie a tutti!